Che Gerusalemme sia veramente la città della pace, che risplendano pienamente la sua identità e il suo carattere sacro, il suo universale valore religioso e culturale come tesoro per tutta l'umanità. Com'è bello quando i pellegrini e i residenti possono accedere liberamente ai luoghi santi e partecipare alle celebrazioni. È l'augurio che Papa Francesco ha espresso al termine del suo incontro con il Presidente di Israele Shimon Peres, vissuto in un clima di grande cordialità. Il Papa e il Presidente hanno piantato insieme un olivo nel giardino del Palazzo Presidenziale e poi hanno pronunciato i discorsi e la presenza di alcune centinaia di bambini di diverse condizioni religiose. Va respinto con fermezza, ha detto Papa Francesco, tutto ciò che si oppone al perseguimento della pace e di una rispettosa convivenza tra ebrei, cristiani e musulmani, il ricorso alla violenza e al terrorismo, qualsiasi genere di discriminazione per motivi razziali o religiosi, la pretesa di imporre il proprio punto di vista a scapito di diritti altrui, l'antisemitismo in tutte le sue possibili forme, così come la violenza o le manifestazioni di intolleranza contro persone o luoghi di culto ebrei, cristiani e musulmani.